Il campo nomadi di San Giorgio a Colonica è oggetto di ampliamento. L'amministrazione comunale ha così deciso di procedere per due motivi. Il primo è dare respiro alle famiglie già presenti nel campo, visto l'incremento della popolazione interna a partire dai primi anni 90, quando fu istituito. Il secondo motivo è il ricollocamento di tre nuclei familiari che erano muniti inizialmente dell'autorizzazione per la sosta nell'area di San Giorgio e che si erano poi spostati nel campo di Viale Marconi. La mobilità all'interno dei campi è notevole, soprattutto i tre, attraverso le calvane, Viale Marconi e via Povolative. Questa è una mobilità notevole a cui ovviamente bisogna prestare attenzione. Alcuni cittadini hanno espresso le loro perplessità per l'ampliamento del campo. In un primo momento era stato detto loro che i lavori in corso avevano lo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie di chi era già dentro. Nel Viale Marconi queste tre famiglie che dovrebbero uscire là dal campo c'è una spesa di 25 mila euro perché le devono portare a San Giorgio? O non potevano tenere là? Perché si deve spendere sordi qui se c'è il campo nomadi là? Potevano tenere là quelle tre famiglie? No, io non sono contro le famiglie, per carità. Quando misero i campo nomadi dovevano essere 40-41. Ora non si sa quante ce n'è dentro, quante ce n'è fuori. È una cosa non controllata, non c'è più un comitato apposta. Un'altra questione è proprio quella dei comitati di gestione previsti dal regolamento comunale per la permanenza di Roma e Sinti. Formato da rappresentanti della società civile del territorio e da rappresentanti del campo nomadi, quello che faceva capo alla circoscrizione sud ha progressivamente diradato le proprie sedute nel corso degli ultimi due anni della precedente amministrazione comunale fino a scomparire completamente. Il meccanismo dei comitati di gestione non ha mai dato i risultati sperati e noi, nonostante l'impegno di chi ci ha lavorato, ne diamo un giudizio negativo. Quindi si tratta anche questo di rifensare una modalità che veda il coinvolgimento dei cittadini del quartiere. Per quanto riguarda invece le roulotte in sosta, da qualche mese in un'area verde di Via del Ferro a Santa Maria Colonica, si procederà probabilmente in maniera analoga al campo nomadi abusivo di Paperino, sgombero delle case mobili e eventuale sequestro preventivo della zona. Di tutto ciò si parlerà domani sera all'Assemblea pubblica che si terrà al Circolo Tronci di San Giorgio in occasione della quale il vice sindaco Faggi incontrerà i cittadini.